Ciao, sono Giulia Gil Music, parliamo di All Music Game, il gioco per divertirsi e vincere tanti premi. Invia un SMS con scritto MINI al 48348, ricevi subito il nostro sfondo e partecipi all'estrazione di una mini cabrio. In più scopri subito se hai vinto una Nintendo Wii o un telefono Samsung Omni Touchscreen. Prova adesso, invia MINI al 48348, 100 Nintendo Wii e 100 telefoni Samsung ti aspettano e in più premio finale una mini cabrio. Ecco il mio sfondo e tra poco scopro se ho vinto. Prova, 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 prova!